e decremente sono pronti al fisco d'inizio una girata che impegna Rauci il guizzo di Racioppo opportunità per Glocal ancora l'intervento decisivo di Pilali sempre 0 a 0 il diagonale in corsa per Molotov concluso dalla distanza si oppone Rauci colpo di testa e doppio miracolo da parte del portiere di Glocal ancora il guizzo di Rauci ma poi arriva il gol si sblocca il risultato Molotov a segno conclusione di Castiglione c'è stato il tocco di Rauci tiro al volo il gol di De Rosa per il 2 a 0 di Molotov uscita di Rauci regolale in corsa di Racioppo impegna a Pilali e sul fronte opposto c'è l'intervento di Rauci gran tiro un primo intervento di Pilali ma poi accorcia le distanze Glocal 2 a 1 il gardellino è calcio a 2 e di testa a Pilali gioppo la conclusione di battuta sul più bello di questa trentesima edizione e infine la finalissima del trentesimo Inge Callen intanto c'è un'opportunità per Molotov ed è un missile che Pilali non può ribattere arriva il gol del pareggio di Pintilie 2 a 2 salvataggio di Rauci vale come un gol questo intervento controllo di De Rosa la conclusione intercettata da Rauci e arriva il gol Glocal passa in vantaggio un clamoroso palo centrato ancora da Glocal Rauci ed è un capolavoro quello del numero 7 Riccardo Calmani per il 3 a 3 splendido il tiro ad incrociare direttamente sotto l'incrocio raggioppo non trova la porta opportunità per Glocal sempre 3 a 3 opportunità fallita 3 più le gol Rauci si oppone ancora Rauci si oppone a Costanzi il tiro di Morelli e trova il gol del 4 a 3 nuovo sorpasso Glocal Simone Morelli 4 a 3 il triplice fischio dunque con un gol segnato quasi allo scadere Glocal Consulting